Ciao ragazzi, ci troviamo di fronte a una telecamera fantastica, stiamo parlando di un action cam che può essere paragonata alla Vipro. Incredibile il prezzo, incredibile la qualità e il compromesso che c'è dietro questa grandissima action cam, ovviamente di marca cinese, che però va contro ogni concetto. Stiamo parlando di un action cam che registra in 4K, 2,8K e 1920x1080 il classico Full HD a 67 secondi. Per gli amanti degli slow motion stiamo parlando di un 720, possibilmente regolabile a 120 fps. 120 fps cosa vuol dire? Che posso fare degli slow motion che sono quasi paragonati all'ultimo iPhone che è uscito, che in realtà fa i 240. Questa action cam non soltanto è incredibile per quanto riguarda la qualità e ovviamente anche le differenze di dimensione e risoluzione, ma anche di prezzo. Sapete quanto costa questa action cam? Avete idea di quanto costa questa action cam? Costa semplicemente 40 euro. Infatti questa review la faccio con voi con bilanciamento automatico delle luci. Volete vedere questa piatta? Questa piatta è completamente, diciamo, grigia e quindi le immagini saranno tendente al blu. Però devo dire che ovviamente fanno parte queste piccole caratteristiche degli accorgimenti e delle... Queste piccole cose fanno parte ovviamente dei compromessi per questa telecamera, che è ovviamente anche limitata in qualità. Non stiamo parlando di una GoPro Hero 5 che fa, come ben sappiamo, delle immagini incredibili, ma stiamo parlando comunque di una action cam che fa e sa il fatto suo.